Ciao tu con i vestiti larghi mi puoi aiutare a diventare un poliziotto, guarda c'è il cappello Ma mi sono pure cambiato, non ti piacciono neanche questi Ma ti fanno male lo stesso, qualcuno te lo deve dire Ma non è vero, Consolini, questa volta vi piacciono, vero? Li ho cambiati per voi perché non vi erano piaciuti È peggio della volta scorsa Comunque, vuole diventare un poliziotto lei, il piccolo bambino Sì, ho anche il cappello, guarda E infatti l'ho notato, vabbè, l'aiutero io, percorrerà la vita di un poliziotto E diventerà uno dei migliori detective al mondo Sì, che bello E ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki E sono Steph, che si giocava Minecraft Benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft Più precisamente della vita su Minecraft E oggi andremo a vedere quella di un poliziotto Dopo aver visto la mia, che è stata meravigliosa, è fantastica Non so, Steph, se si potrà fare di meglio Beh, con la mia vita, certo, però la vedranno in futuro Quindi, per ora, potrebbe probabilmente essere il meglio Ma poi non ci sarà mai, ma chi se ne frega della vita di Steph? Ti voglio dire Sarà una vita fatta di brutti vestiti Non puoi continuare a prendere in giro i miei vestiti Volevo dire che, secondo me, la vita del poliziotto sarà superiore alla tua vita Perché ho preparato delle prove che siano proprio meravigliose Ah, proprio al bacio Allora, sì, sì, al bacio Sei pronta? Sì Venga con me, venga con me Ovviamente qua non ho voluto cambiare nulla Perché queste frasi le devono... Specialmente le frasi Sì, sì, perché se le leggi solo una volta... Mi stanno traumatizzando, levale Vai dentro Avrò paura per sempre degli specchi adesso Allora, e tu dici Steph, ma non è cambiato nulla, è tutto in regola No, qualcosa è cambiato, tipo il colore delle pareti Vedi, qualcosina è cambiato Anzi, c'è il parco giochi qua, guarda Eh, sì, è molto molto carino C'è anche questo don, non sono stato di cose Però, prevalentemente, le cose che cambieranno Saranno le prove che dovrei affrontare quest'oggi Perché ho deciso che saranno molto diverse Saranno proprio a tema poliziotto Allora, prima di tutto c'è la maestra che vuole parlare con te Dato che ti vuole fare una domanda Ho dovuto far incontrare Parla con la maestra Allora, maestra, che lavoro vorresti fare da grande? Il pompiere, il calciatore, il poliziotto, lo chef Maestra, ma che me lo chiedi a fare? Guarda il mio cappello Lo vedi il mio cappello? Ovviamente il poliziotto Ok Oh, ma che bel lavoro, lo so Molto meglio del tuo, maestra La maestra che vorrebbe capire un pochettino cosa vuoi fare da grande Adesso è la tua prima sfida Ok In questo asilo, ok È stato nascosto un bottone Devi riuscire a trovarlo Perché devi, diciamo, allenare le tue doti da detective Ah beh, sì Trovare gli indizi Per notare gli indizi e i dettagli E quindi devi riuscire a trovare un bottone che è nascosto qui Quindi stavolta niente indovinelli? Nessun indovinello Ok Niente di niente Devi trovare il bottone Allora, pensa come Steph con i vestiti larghi Dove può aver messo un bottone? Sì, continua a infierire Un bottone Ti faccio impazzire con i bottoni, cara mia Avete presente quelle custom up dove devi trovare il bottone? Fai in debatto, non certo che le conosco Ecco, ecco, ecco Fare non ne ho mai fatto molte Quindi secondo me avrà un po' di difficoltà Perché non ho pazienza Infatti non è che è proprio il lavoro perfetto per me Però lo è per il poliziotto che mi sono messo Eh, ti tocca per forza impegnarti Steph, l'indizio Ma non eri un poliziato incredibile? Eh, sono piccolo ancora Non ho ancora sviluppato le capacità mentali adatte Infatti il discorso è sempre lo stesso Io ti do una mano soltanto all'asilo Dopodiché sono proprio fatti tuoi Esatto, ti devi arrangiare perché la vita è così Allora, tu stai cercando un bottone, giusto? Sì E stai cercando un bottone proprio in giro Certo Ok Invece il bottone sta dentro una cesta Ah Ma l'ho trovato su E allora era facile, guarda Dove sei? Sono qua Dove cavolo? Non ti vedo Com'è bene a vedermi? Sei sparito, eccoti, eccoti, eccoti Tieni Era facile, però ti ho fregata Eh sì, eh sì Eh, sei stata fregata da Steph? Un pochino, un pochino Eh, perché il poliziotto deve pensare con la mente un po' più aperta, capisci? Ah sì, ho imparato la lezione Se pensi in modo limitato non va bene Andiamo avanti Ovviamente sarà la scuola Ma questa volta non ci sarà un'interrogazione, cara mia Ci saranno due prove molto particolari Molto da poliziotto e molto divertenti Oh, è diventato un piccolo poliziotto adolescente Esatto Mica posso andare da bambino a scuola Devo crescere, giustamente Allora, scegli tu da chi vuoi partire Ovviamente i professori sono i maestri di geografia e di matematica Però ti fanno dei test a tema, ok? Quindi decidi con chi vuoi partire Dai, vediamo geografia Ok, allora Oh mamma mia, un monologo, Steph Legga pure Salve signorina Ma non... Che c'è? Sono un maschietto Eh... Sei confuso parlando? Anche tu sei un po' confuso Non sei simpatica Vada avanti Sono sicuro che diversi alunni hanno copiato durante l'ultimo compito in classe Se riuscirò a individuare tutti gli alunni che hanno copiato Che hanno copiato Le metterò un bel voto Ok PS, tutti gli alunni che hanno copiato qualcosa di diverso dal solito dovrai individuarli e capire come hanno fatto Non ci ho capito niente, Steph Tutti gli alunni che hanno copiato hanno qualcosa di diverso Quindi dovrai trovare una particolarità Ok Che ti farà capire che quelle persone hanno copiato Capisci? Noti qualche particolarità in qualche alunno? Allora, lui ha gli occhi diversi Ok Ok Però devi riuscire a dire come ha fatto a copiare avendo gli occhi diversi Perché tu devi anche capire i metodi, Fere Ha tipo delle lenti a contatto speciali Perfetto Bravissima Grazie Ok Sono già pronto io Sì, sì, stai già andando molto bene Complimenti Non era facile da capire No, 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 no Solo queste bancate Perché lì ci sarà un'altra prova Ah, ok, ok Quindi c'è qualcun altro qua E ci sono tanti diversi Ti garantisco che non stai notando, cara Ah Quello era semplice Ti vedi in difficoltà Ci sono dei dettagli che non noti Ci sono dei dettagli che non noti Sto cercando di guardare i capelli da dietro Lei ha una gonna Ok E quindi come ha fatto a copiare soltanto la gonna? Ha notato questi bigliettini Esatto Se si è aggiunta una parte di vestiti Ha nascosto i bigliettini Bravissima Ok Ce n'è ancora un altro tipo Comunque ci sono tipo dieci alunne con le gonne E non li hai notate Ah, c'è anche questa Quindi è che lei ha copiato C'è pure questa Ah, ok Sono tante Sono tante Con i vestiti farlocchi per copiare Manca un'altra tipologia di dettaglio Che ancora non hai notato Che è l'ultima persona che ha copiato Vediamo se riesci a notarla Questo ha gli artigli Esatto Però non sono artigli È Wolverine, Steph No No Cosa sono quegli artigli? Sono bigliettini in mano Cosa sono? No, sono bigliettini che si è attaccato alle nocche Capito? Ah, ok E quindi fa così Che fantasia E legge Anziché essere Wolverine Nel Wolverine dei bigliettini Ok Allora non si è data un granché Perché comunque Guarda c'è anche questo con gli artigli Non è notato Eh ma era difficile Lo so Lo so Ma il poliziotto deve notare dei dettagli davvero complicati Comunque facciamo che questa prova l'hai superata abbastanza bene Il professore di matematica ha una prova più difficile Se vuole diventare una poliziotta dovrà migliorare drasticamente i suoi sensi Per questo motivo ho già nascosto quattro bottoni nella stanza Riuscirò a trovarli tutti e quattro a superare l'esame Stia molto attento Una trappola l'aspetta Ok Sono pronta Non ho molta scelta Quindi devi ritrovare anche questa volta quattro bottoni Allora qui c'è un bottone Ok Primo bottone trovato Ok Devo premere? No No, no, no Non c'è bisogno Quindi sei a uno su quattro Ok Poi Guardate com'è concentrata Ecco qua il secondo Il secondo Sì, giustamente Ok Sto guardando sotto i banchi, sinceramente Eh, brava, brava Fai bene a controllare ogni minimo notario Qua, 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 qua Sotto i piedi del professore E questo era difficile Eh, questo sì E siamo a tre Secondo me dietro qualche sedia O magari nello schienale della sedia puoi aver messo qualcosa Ma non mi sembra Cavolo è difficile Nella statua secondo me c'è qualcosa No Su un banco Ma come è bello a vederlo Casalini Non lo so Dov'è? Vai diritta Ok Ah, eccolo Questo qua Allora Dai, era cattivissimo Però Hai notato una particolarità Sì, che sono une di legno Esatto Quindi, cara mia Hai trovato tre bottoni Ne manca un quarto Quello lì di legno è semplicemente un fake Cioè, ti diverti a fare queste cose Ti sento molto divertito Beh, ma quando vedrai Riderai tanto Ma proprio tanto Tanto, 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 tanto Io, Consolini, direi di lasciarla qua Almeno una o due minutini a cercare Una o due ore Lo sappiamo che non possiamo dargli altri indizi Perché ormai siamo già nella fase scolastica E Stefano la può mica aiutare Consolini farò uno zoom in editing Per farvi vedere dov'è l'ultimo bottone Sghignazzate in questo esatto momento Alle spalle di Fede L'ho visto Che sta impazzendo Dove? No, no, era il gessetto Ah Pensavo l'avessi incastrato dentro la lavagna No Allora, stai mobile Girati Guarda in alto Guarda verso sinistra Guarda bene quel quadro Ma dai! Non c'è qualcosa Quanto è spettacolare Ma dai, Stef È cattiveria questa È cattiveria Ok Ce l'abbiamo fatta Possiamo andare alla prossima fase E siccome non è andata bene all'asile Non è andata neanche benissimo a scuola Probabilmente sarò un poliziotto scemo E beh, sì Capisci? Non sembri Che la mia vita non sta andando come dovrebbe Sembra che non hai un gran talento in questo lavoro Però Questa vita non è per niente una cosa bella Allora, Consolini benvenuti nella stanza più figa di questa vita Fede l'ha costruita E dopodiché io ho preparato la prova Che ovviamente potete già intuire Perché abbiamo i vari sospettati lì davanti Che andranno interrogati da Fede Sono pronto! Oh, ma che bello! Eh, lo so, bella la divisa Guarda, anche più botto antiproietti Consolini Almeno sembra il professionale Sì, sì Almeno quello Almeno quello Signorina Non guardi le armi Non sono ciò che le interessa Ecco fatto Non ti serve l'arma, Fer Mi hai sparato Ok Una piccola presa in giro guardando questa porta Quella per andare via Volevo darti una frecciatina Comunque Ma devo andare a interrogare i sospettati Abbiamo i quattro sospettati Per andare a interrogare Deve passare di qui C'è un'altra porta Vada, 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 vada Ecco qua Viene qui E deve parlare con i vari sospettati Abbiamo il sospettato numero uno, due, tre, quattro Il primo è Fabio Dimmi Cos'è successo? Su cosa stiamo indagando? Allora, praticamente È stata uccisa a Tina Ok Ieri notte è stata ammazzata Nessuno sa che cosa è successo Ed è stata trovata nella sua casa Ok Morta, ovviamente Morta, ovviamente Quindi deve investigare Per scoprire chi è stato Deve parlare con i quattro sospettati E scoprirlo È stato tu? Parla con Fabio Ma posso sparare? Devi chiederle ovviamente Dove era ieri sera, Fer Te lo spiego io Ok, quindi salve, detective Ieri sera ero a casa A cena con mia moglie E con mio figlio Loro possono confermarlo E quando è l'ultima volta Che hai parlato con Tina? Ma non era Pina? Tina Ah, non avevi detto Pina? Tina, Fer Tina Eh, non sai parlare bene Continua a leggere Di mattina al lavoro Era strana Sembrava molto preoccupata Non ho fatto troppe domande Dato che non avevo Quel tipo di confidenza con lei Va bene Va bene Va bene Quindi, cosa hai dedotto da Fabio? Mi sembra un tipo a posto Sei un tipo a posto Fabio Fer Ma non hai mai guardato Un po' di film polizieschi, no? Sì Allora E con la violenza si ottiene tutto Due cose dovevi notare Il primo è che ha un alibi Perché era con la famiglia E certo, te l'ho detto E a posto E moglie e figli possono testimoniarlo La seconda cosa è che il rapporto aveva con Tina Semplicemente lavorava con lei A meno che non stiamo mentendo Ho capito Ma non può mentire Fer Eh, vabbè, sì che si può Adesso parla con Mario Allora, vediamo dov'era Mario ieri sera Ok Vediamo un pochettino Perché dovrei dirtelo Io non collaboro con i poliziotti Parlo, ti sbatto in prigione Questa frase è bella La so Oppure ti sparo Mario F, attenzione Ok, mi scusi Guarda come ha già abbastato la crema Eh, hai visto? Ha già capito che sono un poliziotto autorevole Ieri sera sono andato in un bar a bere un drink Di pomeriggio litigato con Tina Ah, la È il fidanzato Eh, sì Lui è il fidanzato Sono dei dettagli piccanti Molto interessanti, lo so E no, me la sentivo di tornare a casa da lei Quando sono rientrato però Puntini, puntini L'ho trovata morta Di cosa avete discusso? Ho ricevuto un'offerta di lavoro in un'altra città Tina, però voleva restare vicino alla sua famiglia Ok Ok Quindi già tu non sei molto a posto Mario Eh, te lo dico sinceramente Giusto per non farti arrabbiare Però te lo dico già Ok Allora direi prima comunque di raccogliere tutte le informazioni Allora Per fare le deduzioni Allora, a Sam secondo me dovresti fare un'altra domanda Prima di chiedere Perché l'armatura Come sei conciato Sam È un tizio un po' strano È un travestimento Quando stamattina mi avete portato in centrale Stavo proponando Ah, ok Io sono lo spettacolato Che rapporto aveva con Tina Eravamo amici Ci siamo conosciuti durante uno spettacolo E abbiamo fatto amicizia Quindi era ancora attrice Tina Esatto Nel tempo libero Dove si trovava ieri sera? Ero da solo a casa Non ha nessuno che lo può testimoniare Purtroppo no Vivo da solo con un gatto In ogni caso non farei mai del male a Tina Ero innamorato di lei Ah Ah Comunque Steph Sì Io so parlare anche con i gatti Se proprio lo vuoi sapere Ah, quindi nel caso vuoi chiedere al gatto Che nessuno ha nel mondo Però io so parlare anche con i gatti Io me ne vado Se proprio dovesse servire Manca Pino Steph Vieni a interrogare Pino Ok, parliamo con Pino Ciao Pino Cos'hai da tirmi? Detective Il colpevole è il suo fidanzato Lo deve arrestare Mia figlia ieri mi ha chiamato piangendo E mi ha raccontato di aver litigato con il suo ragazzo E qualche ora dopo Puntini puntini Secondo voi è una coincidenza? Si calmi subito E mi faccio fare il mio lavoro Mi scusi Non sono molto lucido in questo momento In ogni caso Io resterò dove avrei parlato con Tina Al telefono Ok Sono andato insieme a mia moglie fuori città Sicuramente i ragazzi dell'albergo Ve lo possono confermare Ok, grazie Mi dispiace per il suo figlio È il padre Ma Ha parlato strano eh Stava già puntando il dito contro un altro Quindi secondo me è il padre Fede Secondo me è Sam Ok Allora Devi però dire proprio Confermarlo ufficialmente È il motivo Perché ero innamorato di lei Quindi sicuramente era geloso Qualcosa del genere L'unico che non ha un alibi Perché aveva solo il gatto a casa Ok Mi sembra lui Quindi confermi che è Sam Sì E hai indovinato Ce l'hai fatta Fede Hai trovato l'assassino di Tina Che era appunto Sam Che preso dalla gelosia Ha deciso di porre fine alla vita La vita di Tina purtroppo Fede cosa stai facendo? Lo sto andando a sparare Fede Deve morire anche lui no? Forza Vabbè Non lo mettiamo in celle È la parte più divertente No Fede Come no? Ci penseranno gli altri polizioti Tu sei soltanto il detective qui Quindi Dobbiamo andare Ovviamente però Siamo arrivati al momento Diciamo Più bello della propria vita Allora aspetta Steph Mi devo preparare per crescere Ok Altrimenti non posso andare All'altro momento Ha ragione Mi hai confuso con tutti questi È ancora troppo giovine Vuoi vedere come divento bello? Sì E dimmi che non sono un vero poliziotta adesso Ah Pronto ad andare in pensione Steph Finalmente Ma quanta barba c'hai Tanta perché sono cresciuto molto Ok Allora Quindi Questa qua è la tua bella casetta È lavorato sodo Sei stata davvero un poliziotto Quella è la mia auto Eccezionale Quella lì ovviamente è la tua auto E qui c'è la tua casa Con la tua famigliola Perché ovviamente hai pure la famigliola Steph Hai il tuo figlioletto che si chiama Onf Ma chi è che chiama un figlio Onf? Allora Povero Ti ho rovinato la vita Vero Povero Ti ho rovinato la vita Steph E poi la tua mogliettina Ok Ok va bene Che si chiama mogliettina Perché non mi sono sentita Qui ovviamente al piano di sopra Ah la mia divisa Guarda che bello È il mio distintivo Bello 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 Sì 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 C'è tutto quello che ti serve E quindi hai questa bella casetta Con la tua famigliola Sei felice Sereno E ti puoi godere la tua vita In santa pace Comunque È giunto il momento Fere Devi andare Come sempre Io devo rimanere qua Con la tua famigliola A cui dirò Onf Al posto tuo E niente Arrivederci Ciao Steph Ciao Fere Qui è sempre bellissimo Peccato che tu non lo possa vedere Davvero un peccato Ragazzi Lasciateci un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli La di iscrivervi Per non perdervi gli altri video Ciao Alla prossima Ciao Ciao